buon poveriggio siamo di nuovo all'hotel mercur west al roma e fidelity oggi è sabato il 27 novembre e sono in compagnia di giancarlo valletta salve a tutti giancarlo compagno di merenda e collega giornalista di lunga data però da qualche anno ormai se responsabile della comunicazione di un'azienda molto importante se audiogramma principali distributori italiani del 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 settore hi fi e video e siete qui con una saletta spettacolare siamo qua con una bella saletta da 80 metri quadrati divisa in due quindi due due sale da 40 in una sala facciamo hi fi e nell'altra facciamo home theater bellissimo ieri sera siamo andati a curiosare sperando di beccarvi con le mani di termellata cioè sta un po a spiare no le installazioni no ieri sera era un po nervosetto sei accorto si era fate quasi nei guai direi ancora a spellare i cavi sì perché io me la sono diciamo che me le vado sempre a cercare e quindi siccome ho voluto fare la multi amplificazione passiva ma non erano disponibili i cavi già pronti mi sono fatto mandare una matassa grezza e quindi li ho dovuti spellare tutti a mano e siccome non ci vedo più ma sul cavo dell'audio quest c'è scritto bass e treboli ho dovuto mettermi il doppio chiave dopo ore ore ricordiamolo sono cavi che hanno la doppia sono cavi che hanno la diciamo otto conduttori quattro conduttori per gli alti e quattro conduttori per i bassi ma è scritto molto piccolo molto divertente c'è c'è un display oled philips da 77 pollici che è piaciuto molto ai medio certo tarato a notte tempo infatti no vorrei dire ai al pubblico che ieri sera prima che i media ci mettesse le mani si vedeva benissimo poi un po peggio però insomma questo scherzi a parte immaginare philips con natural motion attivato e tutte le scherzi a parte gli scherzi io e medio siamo amici e colleghi da oramai troppi anni ma la taratura di emidio è stata veramente dal giorno alla notte quindi grazie emidio per esatto poi metterò anche le misure che abbiamo fatto certo però emidio adesso davanti a tutti dirà che era il più bel televisore del più bel televisore del roma di fiere di sicuramente bravo se fosse l'unico non è vero non è l'unico display c'è anche come sorgente il reavon il reavon 200 che è distribuito ovviamente il 200 che sarà presto oggetto di un nostro test molto interessante e poi c'è la novità che è uno dei due marchi che distribuite sì dunque diciamo in questa fiera abbiamo voluto far vedere le novità quindi le novità sono in particolare gbl e arkham che sono i marchi importanti appena entrati nel nel play nella nella pletula della distribuzione di audiogamma nel caso dell'impianto home cinema era un proprio un bel sistema con con le secola serie hdi 3.008 anteriori 3.006 posteriori 4.005 il centrale e due sub proprio per non farmi mancare niente per dare molto fastidio al all'espositore che mi sta alle mie spalle liberatore di acustica applicata e ti amerà tantissimo però però mi scuso pubblicamente ma giuro che non ho mai alzato io me l'hanno sempre chiesto è vero perché sia la parte un theater insomma dei pezzettini che ti ho dato anche io quindi in parte sono colpevole esatto quindi quindi fabio la colpa è di emidio ecco e poi però c'è anche arkham che è un altro prodotto c'è anche arkham sì c'è il nuovo processore la v40 con il dirac tutte uscite xlr veramente un prodotto performante interessante poi sono i due finali sempre arkham due due finali arkham uno sette canali e uno due canali il due canali utilizzato per i canali posteriori e il sette canali solo solo sei canali due per left due per il centrale e due per il right quindi multi amplificazione passiva ed era per quello che morivo a preparare i cavi poi c'è un altro impianto spettacolare a me lo motiva del piace ma diciamo quando mi è stato detto distribuiremo gbl il mio cuore è stato contento perché io sono un appassionato e collezionista di gbl e quindi avere un paio di casse con un buffer da 38 centimetri a sospensione rigida per un appassionato di gbl e fa venire fuori la lacrimuccia quindi è pilotato poi da due finali praticamente mono da un kilowatt l'uno che sono i mici m8 preamplificatore mici p5 e come sorgente run nucleus mario risciarde e giulio salvioni mi hanno dato una mano e sono venuti abbiamo passato quasi tutto il pomeriggio di ieri fino a sera quando siamo arrivati noi alle 7 ancora eravate ancora giocherellavamo ancora giocherellavamo abbiamo documentato esatto abbiamo fatto un po' un po' di correzione ambientale perché quella stanza è una stanza particolare e i woofer da 38 a sospensione rigida possono dare qualche problema se non vengono lievemente addomesticati non è stato un lavoro diciamo particolarmente c'erano più più alto c'erano dei buchetti ho visto tra i 50 60 hertz qualche buchetto qualche così e poi soprattutto c'era un 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 cassone in legno che vibrava talmente tanto che abbiamo dovuto diciamo sistemare un po' quel discorso perché se non si sentiva la musica e il cassone che vibrava accidenti però senti e si devo fare una domanda certo avete portato jbl jbl e arkham per dare no lustro a nuovi prodotti che distribuite però più di una persona ha notato la grande assenza di b&w perché c'è la serie 800 per esempio che abbiamo visto a milano invece certo grazie a uno dei vostri venditori che video sale un impianto spettacolare anche lì con drc con trino tra le altre cose un altro vostro prodotto e però diciamo come mai a roma non ci sono ma a roma allora prima di tutto qui a roma e come audiocamma volevamo presentare le novità quindi quello che abbiamo di nuovo e poi ci sono degli enormi problemi di consegna quindi purtroppo e improvvisamente le forniture sono si sono azzerate e quindi quello che dovevamo aspettare tra l'altro in questi giorni che era una fornitura molto molto cospicua di diffusori purtroppo non è non è arrivata quindi sarebbe stato il caso di di portare le 801 ma purtroppo non non è stato possibile invece invece GBL diciamo ce li avete comunque in quantità non esagerata ce li abbiamo molte non tutte per esempio le Everest quelle più grandi siamo un po' in difficoltà e abbiamo vari ordini pending ma non riusciamo ad evaderli devo dire che le Everest sono una roba sconvolgente certo certo conosco le cose non sto abbastanza bene e poi ho visto l'influenza adesso sono le l'influenza è molto buona però però devo dire una cosa che il covid quasi cioè diciamo le norme con le quali si accede alle sale ti permettono di stare un po' di più con le persone perché sono meno persone quindi di fare una presentazione che abbia più un senso e con più persone che ti seguono perché sono tutte persone sedute perché sono tutte persone attente e non c'è la persona che entra di sfuggita ma poi esce perché non la fa alla fila la persona che vuole venire solo a mettere il naso dentro quindi entra solo chi è veramente interessato a ascoltare o a vedere e quindi da questo punto di vista devo dire che la situazione è migliore perché trovo un interesse da parte delle persone che entrano molto acceso ti ringrazio Giancarlo grazie a te a questo punto buon proseguimento e ci rincontreremo nei corridoi del Roma e Fideliti Roma e Fideliti grazie grazie